cominciamo dai maremmani o cominciamo dai bellissimi quattro gemelli arrivati praticamente tutti insieme ad auronzo di cadore è logico che io parto dalla notizia più bella parto proprio da questo doppia doppia nascita di questi di questi bambini due mamme stupende che hanno dato alla luce questi due più due gemelli quattro neonati in poche ore con un doppio parto gemellare dice il titolo qui lo sto prendendo dal corriere delle alpi trovate la notizia sia sul corriere su sia sul verzettino quindi quando acquisterete uno o l'altro di questi giornali comunque trovate l'approfondimento la comunità in festa per davide e lorenzo corte metto e carlotta e riccardo emiliani pensate che squadra davide lorenzo carlotta e riccardo nati nel giro di due tre giorni insomma tutti all'ospedale di belluno da queste due mamme adesso leggiamo qualcosa dell'articolo di gianluca de rosa dal corriere delle alpi poi come vi ripeto insomma cerchiamo di andare anche ad acquistarli questi nostri quotidiani che ci portano nelle nostre case davanti ai nostri occhi insomma queste queste notizie a volte brutte e a volte bellissime come questa uno spot antispopolamento dice gianluca de rosa delle terre alte arriva da oronzo due parti gemellari avvenuti a poche ore di distanza l'uno dall'altro spingono il paese delle tre cime in cima alla speciale classifica dei nuovi nati del 2024 se non è un record poco ci manca a realizzarlo hanno contribuito attivamente i gemellini appena nati davide e lorenzo cortemetto e carlotta e riccardo emiliani il doppio lieto evento è stato salutato con soddisfazione non solo dal reparto di ostetricia pediatria dell'ospedale san martino di belluno dove le rispettive mamme e qui mettiamo in rilievo i loro nomi sono monica comis da ronco e giulia zandonella necca lo mettiamo in rilievo perché alla fine questi quattro bimbi le hanno gli hanno fatti loro le hanno fatto li hanno fatti questi li hanno fatti queste due mamme che hanno accolto così la vita che hanno dato alla luce questi stupendi bimbi insomma e adesso hanno l'impegno enorme dopo averli portati nel pancione di tirarli su tirare su quattro bimbi così non sarà non sarà facile no 2 più 2 hanno partorito supportate dai pur bravi papà aldo ed emanuele una parola la dedichiamo anche a loro ma dall'intera comunità oronzana che poco prima aveva già festeggiato la nascita della piccola asia cinque in totale dunque anzi sono sei perché prima nascito nascitura del 2004 24 era stata adele che nei primi giorni del nuovo anno aveva raggiunto le sorolline gioia e alice quindi sei nuovi nati nel solo paese di auronzo che pure conta poche migliaia di residenti in meno di due mesi quanto basta per far risuonare simbolicamente le campane a festa non vi leggo altro di questo articolo ripeto lo trovate se volete saperne di più a pagina 28 del corriere delle alpi di oggi ma vi dicevo che c'è anche sul gazzettino se preferite andare a leggerlo sull'altro quotidiano che si occupa della provincia di di belluno poi andiamo da dare un'occhiata alle altre notizie sul corriere delle alpi ma torniamo in prima pagina del gazzettino invece per riprendere l'altra notizia che vi avevo annunciato guardando così la prima pagina all'inizio della rassegna rassegna stampa di radio piave in blu di oggi che mercoledì 21 febbraio luigi guglielmi al microfono buongiorno a tutti mare mani altre tre aggressioni sono successi in alpago ma sentite un po racconto dopo il caso di sedico di 15 giorni fa questa volta è accaduto in alpago accerchiati annusati e spinti contro un muro ma attenzione non nel bosco appunto contro un muro un papà e una figlia stavano andando a riprendere la macchina dal meccanico e si sono visti accerchiati controllati e avvicinati proprio appiccicati da tre mare mani questo papà non era anche aveva timore anche per la figlia non sapeva non sapeva più cosa fare cosa fareste voi se aveste se fosse in due e vi arrivano attorno tre bestioni così tre episodi in dieci giorni dopo il caso di sedico all'inizio di febbraio per tre volte sempre nella conca dell'alpago i cani mare mani hanno rincorso e accerchiato persone che percorrevano le strade dei paesi è successo a tambre e a chies e daniele barattin uno dei protagonisti suo malgrado di uno di questi episodi non ha dubbi io la soluzione ce l'ho potete immaginare già qual è no era venerdì quando si stava dirigendo verso la frazione di funes per riprendersi l'automobile lasciata in officina ero con mia figlia sedicenne racconta quando siamo stati prima puntati poi accerchiati annusati e infine spinti contro un muro da tre cani mare mani i cani mare mani da guardiania sono una delle misure da assumere questo il consiglio della regione del veneto per proteggere le greggi dalle predazioni del lupo e barattin dice non è stato un bel momento io non sapevo cosa fare e la mia preoccupazione era fortissima soprattutto per mia figlia all'interno c'è pagina 3 dedicata a questo e il titolone molto significativo altro che lupo ora incubo mare mani tre attacchi a persone in pochi giorni nessun ferito ma tanta paura il ricorso ai cani era stato suggerito dalla regione per sorvegliare le greggi qui approfondisce su tutta la pagina perché poi c'è anche un articolo in basso virgolette abbassare la protezione la parola passa all'europa il lupo ormai molti chiedono non venga più considerato un animale che richiede protezione alta ce ne sono tanti ormai e se il lupo ci porta a dover aver paura anche dei cani che si difendono dal lupo insomma capite che diventa un problema insomma c'è c'è qualche difficoltà oggettivamente di convivenza con questi selvatici che sono tornati in provincia di belluno tre attacche persone appunto in pochi giorni dicevamo non vi leggo altro dell'articolo di giovanni santin che però è molto consistente appunto in questa pagina pagina 3 del in questa pagina cosa siamo pagina 3 si del gazzettino del gazzettino di belluno torniamo sulla prima pagina per vedere un po quali sono le notizie principali date oggi in copertina sul su questo quotidiano della provincia di belluno sotto la testata l'agri chef pescosta stamattina cucina in diretta televisiva su rai 2 ai fatti vostri ce ne parla claudio fontaniva pagina 15 l'iniziativa charity challenge esordio col botto raccolti oltre 100 mila euro scuola innovazione feltra e le bellezze raccontate in video e podcast di tre istituti che sono dal piazza canossiano e comprensivo ma vediamo i titoloni impianti di sci bob e carling il cio oggi a cortina e il comitato olimpico internazionale cioè sono sono quelli che organizzano le olimpiadi oggi vengono a vedere come siamo messi ne scrive longhi pista olimpia stadio olimpico del ghiaccio e tracciato dell'ex eugenio monti nel mirino del comitato olimpico internazionale è attesa per oggi in tarda mattinata la delegazione composta da qualche decina di persone qualche decina di persone che salirà in ampezzo per prendere visione dello stato dell'arte delle opere che accoglieranno le gare dei giochi olimpici e paralimpici invernali nel 2026 in programma rispettivamente dal 6 al 20 febbraio e dal 6 al 18 marzo di quell'anno pensate per quanti giorni avremo il mondo qui da noi nessuna ispezione si affretta a precisare il presidente della fondazione milano cortina stefano longo semplicemente un sopralluogo programmato da tempo per accertare a che punto siamo il caso pista da bob con i bandi andati deserti l'attribuzione sul filo di lana dell'opera rivisitata in versione smart le proteste degli ambientalisti le ricadute politiche di un caso divenuto nazionale avevano finito per distrarre l'attenzione dalle altre partite in piedi in vista del grande appuntamento non credo che sia così non penso che nessuno si sia assolutamente distratto anche perché a cortina hanno una professionalità nel nell'organizzazione di eventi internazionali mondiali insomma che lasciamo stare insomma pochi come cortina insomma sono hanno mostrato sulla coppa del mondo femminile cortina è stata sede di recupero non so quante volte perché aveva le condizioni sempre ottimali laddove altre località del mondo hanno fatto cilecca insomma quindi darei molto fiducia ai nostri conterranei di lassù in gennaio un record di assunzioni ma il saldo è in profondo rosso ne scrive toscani c'è il paginone pagina 2 è tutta delicata dedicata a questo al tema del lavoro assunzioni record in gennaio ma saldo in profondo rosso il distretto dell'occhiare spicca il volo nell'export è terzo in tutta italia e poi in taglio basso morti sul lavoro e sicurezza la cisl e catombe inaccettabile servono controlli più severi ma torniamo alla prima leggiamo il lancio assunzioni a doppia cifra per la provincia di belluno che a gennaio centra il miglior risultato veneto con un picco di contratti cresciuto del 12,1 per cento rispetto allo stesso mese del 23 tuttavia nonostante ciò il saldo complessivo resta fortemente negativo e queste appunto come dice la didascalia sono luci e ombre nei dati sul lavoro dei maremmani abbiamo già detto delle due coppie di gemelli abbiamo già detto sono anche qui sul gazzettino che stiamo leggendo adesso belluno in tribunale l'aggressione ai militari avrebbero organizzato una spedizione punitiva a carico di tre persone tra i quali militari dell'esercito italiano ieri mattina il destino giudiziario dei cinque aggressori si è diviso al termine dell'udienza preliminare che c'è stata in tribunale belluno chi se la caverà con la messa in prova ovvero un percorso di lavori sociali che estingueranno la pena chi affronterà il giudizio abbreviato e chi finirà a processo la vicenda era venuta il 17 giugno scorso all'ambioi dopo una festa sono quelle notizie che da bellunese e da sempre insomma resto incredulo a leggere sinceramente sanità covid premi a medici e infermieri queste targhe per ringraziarvi a testimonianza dell'impegno del servizio del sacrificio di voi medici infermieri operatori sanitari durante il periodo dell'emergenza covid si è chiuso così ieri in prefettura il convegno organizzato dal lions club di belluno dal titolo la prevenzione nella sfida della salute dall'emergenza pandemica a nuove prospettive e proprio i lions a nome di tutti i bellunesi ha consegnato il premio agli angeli della pandemia con le targhe simboliche agli ordini professionali ricordiamo che qui non c'è scritto ma questa questa iniziativa viene proprio nella giornata della che dopo il covid è dedicata proprio agli operatori della sanità dunque taglio basso feltre fuga dal centro niente da fare non si riesce in questi nostri centri storici a invertire la tendenza allo spopolamento centri storici bellissimi belluno e anche feltre se ne vanno i negozi poi se ne va la popolazione i residenti scendono a 20.500 i residenti a feltre cambiano radicalmente se nel 2022 si registrava una fuga dalle frazioni nel 2023 si è registrato l'esatto opposto con ben 449 persone che lasciano il centro di feltre per andare a vivere nei territori frazionali a registrare il maggior numero aumento di arrivi sono foen e mugnai è quanto emerge dai dati anagrafici relativi all'anno 2023 offerti dall'ufficio comunale di feltre cala picco il numero dei residenti che ora sono 20.524 ossia 56 in meno rispetto al 22 quando il numero complessivo si attestava sui 20.580 allora io se avessi scritto questo articolo non avrei messo cala a picco essere passati da 20.580 a 20.524 comunque c'è un caso per trovare un dato così basso bisogna andare indietro al 2006 quando i residenti totali erano 20.325 provincia ecco gli otto in campo per la lista civica ma intanto gosetti sindaco di cibiana esce diciamo così dalla lista del centrodestra non per approdare altrove ma dice di volersi concentrare sulle elezioni comunali di cibiana perché è intenzionato a rimanere sulla sedia di sindaco camillo de pellegrini sindaco di val di zoldo ha presentato la lista degli otto amministratori della lista dei civici tra val belluna feltrino zoldo al pago a gordino in attesa della lista del centrodestra però mattia gosetti annuncia che non sarà della partita a palazzo piloni cioè per la provincia mi concentro sulle elezioni a cibiana spiega e questo nella sulla prima pagina del gazzettino di belluno saltiamo al corriere alla prima del corriere delle albe vi faccio vedere quali sono gli altri titoli di interesse di interesse nostro locale la sanità recupera i bocciati questa per dirvi come siamo messi una mossa della regione contro la carenza cronica di operatori si potrà ripetere l'esame la formazione extra è già iniziata a treviso in veneto mancano parliamo di questo 3500 operatori sottosanitari così per dare loro un'altra chance sono stati stabiliti dei corsi per quelli che non avevano superato le selezioni precedenti cioè si va a recuperare come dice il titolo brutalmente i bocciati su su questa pagina come al solito tanti titoli non bellunesi però veniamo a vedere le cose nostre diciamo sabato e domenica discese sul colmar margherita parliamo di falcade stop al traffico e navette per il san pellegrino coppa del mondo di sci la volata tirata a lucido i lavori di preparazione della pista sul core margherita in vista delle gare del fine settimana ora io ripeto tante volte ma a me sembra che che ci sia ancora qualche difficoltà nella realizzazione di queste nuove prime pagine del corriere delle alpi dopo che ha cambiato proprietà perché per esempio questa foto questo titolo che vi ho letto sulla pista volata tirata a lucido san pellegrino col margherita insomma non dirci che stiamo parlando della valle del biois che stiamo parlando di falcade mi sembra un po tanto insomma perché non è detto che si sappia neanche in provincia del belluno dove sono questi posti insomma la gente vede neve volata chi dov'è cortina il taglio basso auronzo sotto il segno dei gemelli e volevo farvi vedere questi altri tre titoli importanti trasporto pubblico bus a chiamata si parte a feltre ea belluno il via sarà dato in aprile e questa è una cosa molto importante perché potrebbe andare incontro alle esigenze determinate dalla carenza di autisti va incontro alle esigenze di difesa dell'ambiente perché meno autobus che circolano vuoti comunque dire meno inquinamento o dire anche meno spese e vediamo però se questo servizio sarà inclusivo vi dico io perché se far arrivare l'autobus a chiamata sarà difficile per chi ha meno dimestichezza chi è un po più 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 fragile insomma chi è escluso magari che nella parte critica del digital divide insomma queste sono cose che bisognerà cercare di attenuare in tutti i modi no dibattito in regione mediazione modifiche sulle stanze panoramiche parliamo di quegli edifici non fissi che verrebbero collocati sulle nostre dolomiti la neve solidale 100 mila euro per i bimbi in ospedale avevamo già detto e poi sul cio c'è questo titolo commissari cio in sopralluogo e malago è ottimista ecco noi chiudiamo con il titolo con l'apertura di questa pagina 27 del corriere delle alpi con l'area alta della provincia vertice e sopralluogo del cio malago ottimista la commissione arrivata ieri verifiche anche sulle procedure alla frontiera aeroportuale oggi le ispezioni agli impianti e poi c'è questo articolo di francesco dal maschi noi adesso non abbiamo tempo di leggere né di accennarvi più di tanto però è importante perché affronta la questione del futuro della pista da bob i temi olimpici in commissione ambiente lavori pubblici del senato la rassicurazione di anas su una scorciatoia sui temi ambientali titolone impegno sui futuri costi della pista da bob la regione cortina non sarà lasciata sola e questo sarebbe bene che venisse messo su nero su bianco perché se poi i costi di gestione dell'impianto manutenzione resto dovessero gravare totalmente sul comune non va bene diciamo che cortina accetta di ospitare un'infrastruttura di valore di utilità internazionale neanche solo nazionale italiana non si può pensare che poi se la mantenga il comune va bene allora con questo io mi fermo qui concludiamo la rassegna stampa di oggi mercoledì 21 febbraio vi raccomando seguiteci su www amicodelpopolo.it seguiteci su radio piave in blu e per chi è abbonato all'amico del popolo vi ricordo che oggi verso l'ora di pranzo sarà messo online l'amico del popolo in versione digitale che è uguale a quello di carta che riceverete nelle case domani e dopodomani secondo la distribuzione postale ma quello digitale potete sfogliarlo già da oggi davanti a un computer oppure sul vostro telefono vi ricordo ancora una volta che potete abbonarvi al solo amico del popolo digitale se volete e potete abbonarvi se no al giornale cartaceo che ha compreso nel prezzo anche il digitale sfogliabile sul computer se non sapete come si fa scrivete a segreteria chiocciola amicodelpopolo.it vi danno la password e così potete sfogliarci sul computer come ho fatto adesso io col corriere delle alpi e con il gazzettino esattamente la stessa cosa allora buona giornata a tutti ciao da Luigi Guglielmo